Il capitano del Nepoli, Mario Pasquale, accompagnato dall'allenatore Vincenzo Vivani e dal presidente Fabrizio Corsi, leggerà il giramento di lealtà e rispetto. Il capitano del Nepoli, il capitano del Nepoli, il capitano del Nepoli, il capitano del Nepoli, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti